Sì! Anche nei giorni successivi. Naturalmente tutto questo è un ragione di Rimini che ha messo ancora più il cuore nell'organizzazione del XII Golden Fest, che comprende una serie di progetti, quelle delle categorie giovani di cui abbiamo visto alcune prove all'interno del cortile della concessionaria autopista di Rimini. E qui stiamo per vedere la presa della clube della giornata, la quattordicissima a Rimini Riccio Rimini. Qui in questa mesilia di Pasqua abbiamo appassionati del corso proveniente di tutta la penisola infatti in Pasqua di Rimini per partecipare a questo quattordicesimo Golden Fest di Riccione. L'apertura del calendario Golden Runner Finisher, organizzato dal Golden Club di Rimini con il patrocinio della provincia del comune del quartiere 6 di Rimini e valevole per il campionato regionale Libertas della Corsa su Strada e Pro Croce, corsa italiana per l'acquisto di un defibrillatore che si è disputata su un tracciato, come abbiamo detto, velocissimo di 10 chilometri ed ha riscontrato una grossa partecipazione, specialmente le donne, perché una quarantina di donne hanno preso parte a questa competizione. Ma ritorniamo per un attimo ai più giovani per dare almeno i nomi dei vincitori, mentre li vediamo sul podio. Incominciamo dagli ordienti dove a vincere è stata tra le femmine Gaia Belletti del Golden Fest di Rimini, ha preceduto Elena Baffoni della Team Taverna, al terzo posto Emma Siccali del Golden Club di Rimini, poi seguono Ambra Corrado della Arvedi Brescia, Marta Mengucci del Golden Club di Rimini, Melissa Dominici del Team Taverna. Tra i maschi, sempre esordientici, ha vinto Till Kreisen della Germania, al secondo posto Matteo Scalera del Golden Club di Rimini e al terzo posto Emanuele Belletti e suo compagno di squadra. Esordienti Femmine B ha vinto Carmen Kreisen della Germania, al secondo posto Asia Possanzini del Team Taverna. Esordienti B maschi ha vinto Lorenzo Dominici dell'Atletica Team Taverna, al secondo posto Davide Scalera del Golden Club di Rimini, al terzo posto Alberto Tamagnini del gruppo di stimatori San Marino, Pietro Mengucci del Golden Club di Rimini e altre due del Golden Club di Rimini che sono Alberto Zaghini e Matteo Pesaresi. Esordienti A maschi, al primo posto Alessandro Baffoni del Team Taverna, al secondo Marco Salomone del Riccione 82, poi nati negli anni 1999 e 1998. Qui ha vinto Matteo Ambrosini del Golden Club di Rimini davanti a Riccardo Bragagna dell'Atletica Villazano, cadette Nicole Bellettini del Golden Club di Rimini, mentre i cadetti maschi ha vinto Federico Bragagna dell'Atletica Valla Zano, al secondo posto Cristian Lombardi del Golden Club di Rimini e al terzo posto Claudio. Ed eccoci all'arrivo della Rimini Riccione, la 10 chilometri competitiva, dove ha vinto il forte atleta bresciano Massimo Corrado. E tra le femmine ha vinto una sua concittadina, Monica Pezzotti, perciò hanno fatto il bis precedendo i favoriti della vigilia, che erano il sanmarinese Stefano Ridolfi e la riminese Fausta Borghini, che hanno ottenuto comunque le piazze d'onore. Dopo che gli altoparlanti hanno trasmesso l'inno d'Italia per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, era scattata infatti la dodicesima Riccione Rimini Riccione, che ha visto tagliare il traguardo 228 competitivi, di cui 48 rappresentanti del gentil sesso. Tra gli uomini ha vinto dunque l'alfiere dell'atletica Arvedi di Brescia, Massimo Corrado, con una progressione finale che è andato a cogliere così il successo in 32 minuti e 13 secondi davanti al favorito della vigilia, il sanmarinese Stefano Ridolfi della Gabbi di Bologna, che ha chiuso in 33 minuti esatti e al terzo posto il marchigiano Davide Seri dell'Atletica Asta Mura Ancona in 33 e 24. Hanno completato la top team maschile Moreno Martinini dell'Olimpia Amatori Rimini 33 e 31, poi seguito da Massimiliano Nicolini del Golden Club di Rimini 33 e 45, Luca Nicolini Avis Sansepolcro 33 e 54, poi Massimo Torsani, Olimpia Amatori Rimini 34 e 31, Valerio Vincenzi Sideremec Fratelli Vitali 34 e 41 e Denis Pianini del gruppo podistico Villa Verupio in 34 e 57. Nel 10mila Rosa con una cavalcata solitaria ha vinto la lombarda Monica Pezzotti dell'Atletica Brescia in 37 e 57. Ha avuto la meglio sulla romagnola Fausto Borghini, la riminese Fausto Borghini che corre per il gruppo podisti Amatori San Marino e che ha impiegato 39 minuti e 16 secondi. Al terzo posto la toscana Cristina Corsini dell'Avis Sansepolcro 40 minuti e 38 secondi. Seguono poi Aurora Placci dell'Atletica 85 Faenza 40 e 48, Katia Bianchini del San Rafael di Bologna 41 esatti, Susi Atletica 85 Faenza 41 e 08, poi Emanuela Berardi Gabbi di Bologna Riccionese 41 e 16, Antonella Panza della Whirlpool 41 e 24, Sara Giacchi dell'Avis Sansepolcro 42 e 30 e Arianna Tiozzo Avis Brescia 42 e 35. I vincitori di categoria nella categoria hanno trionfato Marco Anzaloni in 35 e 22 amatori A, poi Massimiliano Nicolini amatore B, Moreno Martinini amatori C, Valerio Vincenzi amatori D e Alfiero Scarpellini amatori E, 41 e 38 e solo tempo, poi Aurora Placci amatori F, Katia Bianchini amatori G e Anna Canarecci amatori H in 43 e 30. Per la cronaca tra le società si è imposta nel Gran Premio Scat Autopista la compagine dell'Avis Sansepolcro.